la principessa del galles è uscita per un'apparizione a sorpresa al chelsea garden show al royal hospital chelsea la principessa del galles ha fatto un'apparizione senza preavviso al rhs chelsea flower show oggi dove si è unita agli alunni delle scuole al primo picnic per bambini dell'evento la principessa era tutta sorrisi quando è arrivata entusiasmando i fan reali in un lungo maxi abito rosa kate ha incontrato i giovani di 10 scuole che partecipano alla rhs campaign for school gardening mentre si sedevano a mangiare gli alunni che hanno preso parte al picnic provenivano da scuole tra cui cameron vale school alec reed academy st george cof primary school st augustins cof primary falconbrook primary school christ church cof primary school glenbrook primary school st maris cof primary school st george church of england primary school e laycock primary school il picnic ha lo scopo di portare il giardinaggio e la natura nella vita di più bambini un argomento che kate è appassionata da diversi anni nel 2019 ha lanciato i suoi giardini rhs back to nature a chelsea e l hampton court palace flower show in collaborazione con gli architetti paesaggisti davis white per sottolineare l'importanza di trascorrere del tempo all'aria aperta per lo sviluppo di un bambino kate in seguito ha aperto un parco giochi permanente back to nature presso rhs garden weasley trascorrere del tempo all'aria aperta consente ai bambini di rafforzare la fiducia in se stessi sviluppare l'indipendenza e imparare a stringere relazioni con gli altri tutte abilità che aiutano a modellare la loro vita adulta la principessa alla sua prima visita allo spettacolo dal 2019 ha incontrato gli scolari mentre si godevano un picnic al palco dell'orchestra si è poi unita a loro in visita a tre dei giardini dimostrativi di quest'anno per prendere parte ad attività tra cui una caccia agli insetti pianificare un pasto coltivato in casa e scoprire come i giardini possono favorire il benessere davvero Grazie a tutti.